Allora eccoci qua rientrati in studio, adesso parliamo di Venezia, questa volta Armano non parliamo dell'acqua alta, ma parliamo del moto ondoso e di quelli che sono gli effetti anche del moto ondoso sulla struttura, sugli edifici di Venezia e anche dei problemi che crea a chi ad esempio utilizza barche a remi o anche allo stesso traffico acqua sostanzialmente Diciamo che il moto ondoso, che è il movimento che fa l'acqua a seconda dell'impatto che ha con la carena di una nave o di una barca, crea onde diverse, praticamente è il tarlo di Venezia, sta corrodendo piano piano Venezia, cosa vuol dire? Vuol dire che crea delle onde che poi spostano il fondo della laguna e il fondo della laguna si avvicina chiaramente anche alle strutture della città e le fondamenta delle strutture vengono erose e quindi lì è che diciamo c'è il tarlo, cioè toglie il supporto dove Venezia sta in piedi, Venezia non è nata, è stata creata dal nulla, cioè prima lì c'era il nulla, poi c'è stato un popolo che ha creato una città fantastica, sembra quasi un miracolo e questa città fantastica oggi perché dobbiamo correre, dobbiamo far questo, dobbiamo far quello, la stiamo distruggendo attenzione, se Venezia crolla nessuno la potrà mai più costruire perché ci hanno messo migliaia, centimigliaia di anni per costruire quella città che oggi camminiamo tranquillamente, diciamo che bella, e la stiamo distruggendo perché c'è un signore che arriva in treno, prende il taxi e il taxi deve fare il più presto possibile e quindi toglie via quei granelli di sabbia giorno per giorno, quelle masse che sono sul fondo della laguna che sostengono Venezia perché Venezia è stata fatta di pali, non è che sotto c'è roccia, non è che ci sia ghiaia, sono dei pali ed erano i pali di Rubinia perché a quello che io ho studiato la Rubinia sott'acqua salata si calcifica e quindi dura anni, purché non ci siano i tagli e quindi viene ricoperta poi da questa terra, vengono conficcati a suon di martelli di mazze, i pali sotto a migliaia e sono i pali che sorreggono la Basilica San Marco piuttosto che le procuratie, piuttosto che tutti gli altri palazzi, togliere il fondo e il terreno di coesione tra questi pali vuol dire far crollare Venezia, ma lo facciamo inconsapevolmente, per la maggior parte della gente non si rende neanche conto dei danni che fa, perché dice io cosa faccio a Venezia? Viaggio con un motore, ma all'epoca quando è nata Venezia i motori non c'erano, le eliche non esistevano, di conseguenza al massimo si creava un moto ondoso leggero, al massimo lo spostamento può essere determinato dalle maree, ma mai da mezzi così importanti, allora quando si dice non vogliamo le grandi navi che passino per il bacino di San Marco, vuol dire che lo spostamento dell'acqua, il risucchio che fa l'acqua dallo scafo di una grande nave, è talmente grande che sposta completamente quello che è il terreno che sostiene, su cui appoggia Venezia e questo è uno dei fattori. Poi io credo che c'è anche un altro fattore un po' più sottile, meno comprensibile, che sono le vibrazioni che i motoscafi creano sull'acqua e che si riflettono poi naturalmente su tutto il resto. Poi abbiamo avuto in tempi non sospetti addirittura l'estrazione delle falde dell'acqua, quando usavano l'acqua delle falde per raffreddare le grandi industrie di Marghera che è stata la maledizione di Venezia. Venezia è scesa, a quello che so io, ma abbiamo degli esperti di addirittura 10 centimetri e c'è qualcuno, forse mi sbaglio, ma adesso chiederemo ai nostri esperti se ho ragione, c'è qualcuno che dice che bisognerebbe mettere l'acqua sotto per far riemergere Venezia. Ecco, questo è quello che stiamo facendo, cioè in 100 anni stiamo distruggendo quello che è stato fatto in 1600 anni. Abbiamo gli esperti. Certo, certo. Allora presento gli ospiti che abbiamo con noi per affrontare questo tema delicatissimo sicuramente per Venezia. Saluto in studio l'Avvocato Giorgio Suppiei. Buonasera Avvocato Suppiei. Grazie a lei di essere tornato qua nel nostro studio. Fa parte di molte associazioni storiche veneziane, lo presentiamo come associazione Venezia Serenissima o associazione Arzana. In questo caso l'Arzana che è l'associazione per lo studio e la conservazione delle imbarcazioni veneziane. Quindi noi abbiamo raccolto e conserviamo le imbarcazioni storiche che si sono salvate dalla distruzione e dal venir meno della convenienza economica di farle funzionare così come erano e quindi è il patrimonio conservato di quel che invece circolava un tempo in laguna e in giro per la città. Certo, certo. E saluto e ringrazio sempre in studio il professor Luigi Dal Paus. Buonasera. Professor Dal Paus, grazie per essere tornato qua nei nostri studi. Come ospite ricordiamo è stato docente di idraulica all'Università di Padova e ha seguito in modo particolare con numerosi studi la laguna di Venezia e tutte le vicende legate alle questioni idrauliche del capoluogo del Veneto. Certo. Allora abbiamo questo problema, tu giustamente dicevi le navi passano e spostano tutto il sedime, cioè quindi non c'è solo come dire tra virgolette un effetto meccanico di superficie con l'onda che dopo sentiremo raggiungono anche in laguna, anche superano ampiamente il metro, ma poi creano tutta una serie di problemi che già l'acqua salmastra creerebbe comunque sugli edifici per una questione diciamo così di carattere chimico, però questo peggiora non poco la questione. I veneziani avevano fatto, quando facevano le fondamenta di Venezia le facevano di pietra fino a una certa altezza fuori acqua che era l'altezza massima che poteva arrivare la marea, poi usavano i mattoni, perché il mattone si impregna dell'acqua salata e naturalmente poi l'acqua per capillarità sale e quindi crea danni all'edificio. Oggi abbiamo i muri di Venezia che si polverizzano a causa di questo. Con l'estrazione dell'acqua di Marghera e abbassandosi il livello dell'acqua di Venezia naturalmente e alzandosi le maree hanno creato esattamente il contrario, cioè quella difesa che era stata fatta dagli architetti allora di Venezia, cioè mettiamo delle pietre che non siano impermeabili ma siano impermeabili e quindi in questa maniera difendiamo le strutture veneziane e questo oggi non è più possibile perché le maree superano di gran lunga quegli sbarramenti architettonici che erano stati fatti. Professore Dal Paus, ci può dare una mano in questo senso? È così, indubbiamente è così. Diciamo che il livello medio del mare relativo è andato incrementandosi per diversi fattori, per cui questa difesa passiva adottata per difendere le murature dall'acqua salata. Era un tempo a livello adeguato, oggi non lo è più e quindi assistiamo a un degrado direi più che evidente e forse anche non facilmente rimediabile di tutte le murature dell'edificato e anche in particolare delle difese costruite lungo i canali e delle fondamenta in buona sostanza. Su tutto questo il moto ondoso poi aggiunge i suoi effetti. Purtroppo il moto ondoso è il grande problema da tutti citato ma poi da tutti, soprattutto fra quelli che hanno la responsabilità delle decisioni, ignorato. Di fatto chiacchierano, chiacchierano, chiacchierano. C'è uno studio sperimentale fatto sulle barche tipiche che navigano in laguna nel 90 penso. Si sono spesi anche dei soldi perché vennero fatti degli esperimenti in campo aperto per rilevare il moto ondoso prodotto da questi natanti al variare della velocità. E poi questi esperimenti in campo aperto furono anche replicati con indagini condotte sia nella vasca navale di Trieste sia successivamente nel laboratorio di idraulica dell'Università di Padova. Questo per dire che le conoscenze di questo fenomeno sono disponibili da molto tempo. Solo che ho l'impressione che chi si è succeduto nella guida della città abbia preso questi rapporti che erano anche abbastanza voluminosi e li abbia messi da qualche parte in qualche scaffale in modo che si impolverassero per bene. La non conoscenza è il fattore dominante dell'azione dei decisori veneziani perché si affrontano problemi ignorando che questi problemi erano già stati affrontati e su questi problemi già dal punto di vista scientifico ci si era espressi. Adesso sentire il sindaco che voleva, non so se l'abbia fatto, nominare il commissario al moto ondoso, dico ma invece che nominare il commissario, perché questa figura nel caso di Venezia è diventata drammaticamente benefica nell'opinione di qualcuno, invece che nominare un commissario, datti la briga, alza la mano e tira fuori dagli scaffali quelle indagini che il comune stesso aveva sostenuto e finanziato e che poi sono finiti come spesso è accaduto nel caso di Venezia, lì buttati non al macero perché li hanno anche conservati ma buttati nel dimenticatoio. Questo la dice lunga insomma perché soprattutto quelle indagini condotte negli anni 90 davano una chiara spiegazione di questo fenomeno che dal punto di vista del degrado sia del tessuto urbano sia delle forme tipiche della morfologia lagunare è la causa dominante in sostanza, le correnti indotte dalle maree fanno ridere rispetto a quelle che invece induce il moto ondoso, però tutto questo è appunto ignorato, si discute, si discute, si discute, ma non si prendono mai i provvedimenti e non li si prendono perché sono provvedimenti che si scontrano con gli interessi di gruppi che hanno influenza nella vita della città di Venezia e quindi pur di non toccare questi gruppi si lascia perdere e si preferisce toccare Venezia, poi quando non l'avremo più non so cosa si farà. Sì, ecco io vorrei tornare un attimo e fare una comparazione, torniamo al discorso della permeabilità dei mattoni con l'acqua salata. C'è stato un momento in cui qualcuno si era inventato di mettere delle sonde, sonde dove c'erano attaccati, cioè facevano un foro sul muro, mettevano una sonda e poi mettevano una bottiglietta piena di sostanze plastiche che vengono per capilarità assorbite dai mattoni e salgono addirittura anche di qualche metro in maniera tale da rendere il mattone impermeabile e quindi fare la funzione che aveva una volta la pietra e questo fermerebbe naturalmente perché se il muro di sostegno di un palazzo viene imbevuto in questa maniera si salva, altrimenti è destinato a tirare giù tutto il palazzo. Allora io faccio un collegamento, abbiamo ottenuto a Venezia, giustamente perché è una bella cosa, 30 milioni di euro, vado a memoria ma non vorrei sbagliarmi, per il bosco dello sport che naturalmente questo sindaco ha giustamente ottenuto per i veneziani, ma forse ci sono delle priorità, nel concetto politico c'è una priorità? C'è una priorità per salvare l'Italia e evitare di fare un ponte che non serve a niente, visto che il ponte di Messina sbarca su un'isola che è priva di ferrovie, è priva di strade e non so, sarebbe meglio fare prima le strade in Sicilia e in Calabria e poi eventualmente farà anche il ponte, ma questo naturalmente non rientra nella strategia della politica italiana da sempre. Integro queste cifre, allora il bosco dello sport sono 90 milioni di euro, mi spiace, e quindi era una spesa, e l'unica sostanziata per Venezia dei fondi del PNRR, recente quello dei fondi europei, che sono 170 milioni di euro, sono stati tutti quanti consegnati in blocco alla Biennale perché si mettesse a posto le sedi, dopo essersi venduta il palazzo con Nel della Regina sul Canal Grande alla Fondazione Prada perché mettesse a posto le sedi dove vuole sistemarsi in Arsenale e quindi rendere mostre espositive dell'arte contemporanea in Arsenale, anziché la conservazione storica di quel manufatto così importante che invece è la gloria e la cultura di Venezia. Poi volevo fare una sintesi, il problema principale dei danni aumentati dallo sprofondamento di Venezia è dato da due fattori in sintesi, il primo è quello del pompaggio dell'acqua eccetera dell'industria di Marghera che ha creato il fenomeno che i tecnici chiamano di subsidenza, si è abbassato il fondo perché vuotando le sacche sotto l'acqua della laguna c'è il caranto che è una melma che non pervasiva dall'acqua eccetera e sotto ci sono le faglie acquifere che vengono giù dalle prealpi e dalla montagna veneta, ecco quello. E il secondo altro elemento gravissimo che ha devastato la laguna è lo scavo del canale dei petroli, la marinizzazione della laguna, hanno aumentato le bocche di porto in quel popò di maniera eccetera e qui il professor Dal Pao è stato maestro della critica fatta a quello scempio fatto della laguna, questo per inquadrare il perché è ancora più grave il motondoso, poi ci tenevo molto a precisare come sono costruite queste case veneziane, cioè i veneziani avevano individuato un sistema di costruzione per cui piantavano i pali, quando non avevano la gagia prendevano anche roveri e anche l'arice del cadore è molto buono per la resistenza all'acqua, lo piantavano nel caranto, questo legno a distanza di anni in carenza di ossigeno perché non sono tanto le bessie xilofaghe che lo deteriorano ma è quando viene estratto, quando ha anziché essere immerso nel caranto con l'ossigeno ha un deterioramento per cui ha un livello di marcescenza molto maggiore, questo si aveva un fenomeno tipo quello degli intonaci che con il carbonato di calce fa la carbonatazione e tornano pietra quando sono fatti bene, mescolati con un determinato tipo di sabbia, ecco questi infilati nell'acqua nella melma della laguna creavano e diventavano quasi solidi come la pietra, sopra questi pali queste che non sono migliaia, sono milioni di pali piantati nei secoli, facevano lo zatterone cioè mettevano una piattaforma lo stesso di un legno che non deve prendere ossigeno e sopra lo zatterone mettevano pietrame, blocchi di pietra grosse che un tempo li prendevano soprattutto dall'Istria perché arrivavano via nave di pietra d'Istria che non si rovina e in tempi più recenti hanno cominciato a prendere anche la trachite euganea che è molto buona, lo stesso per le costruzioni più recenti hanno quelle della pavimentazione urbana di Venezia che è il Saliso e che è trachite presa dalle cave dei coniugane e le portavano attraverso il Brenta eccetera e arrivavano in laguna, sopra di questo e avevano calcolato con assoluta precisione il livello dell'acqua, costruivano coi mattoni e costruivano anche architetture perché non pesassero troppo anziché murature enormi come nei castelli o negli edifici importanti della terraferma, murature sottili, sono due mattoni di testa, cioè sono 13 più 13, 26 centimetri di spessore le cose e le finestre, questo bellissimo stile gotico che ha tutte le cose traforate eccetera così con i porti, con queste finestre vetrate aeree aperte sul canale, era proprio per alleggerire la facciata degli edifici, anche il palazzo educale che è sempre un po' così importante, in realtà è alleggerito da tutti quegli altri, da tutti quei vuoti che creano la bellezza artistica della città, quindi Venezia si è abbassata di quella decina di centimetri e hanno fatto un esperimento in una casa sola però negli anni 80, la casa dei sette camini, di ritirarla su pompando sotto del materiale ovviamente in maniera molto molto lenta per non far deteriorare la struttura di questi immobili e si riusciva a fare, ovviamente con degli impegni di spesa che sarebbero state utili spendere nella manutenzione della città invece che in altre cose a Venezia, ma questo è il problema della politica, invece il problema delle onde è questo, ci sono due tipi di onde che creano un problema grave, uno è quello delle grandi barche dislocanti, cioè le grandi navi non fanno onde, vanno piano ma muovono una tale massa d'acqua che svuotano intorno a sé e poi si rilieva, quindi è un lavoro di pompaggio e di spompaggio eccetera e l'altro del moto ondoso più di superficie, di questa quantità enorme di taxi, di mototopi che una volta avevano motori molto più piccoli e intanto erano molto di meno, motori molto più piccoli, correvano meno, quindi non facevano onde, le quali schiaffano proprio sulla muratura portando il livello degli schizzi delle spruzze dell'onda a oltre un metro, un metro e mezzo rispetto alla vecchia linea del pelo dell'acqua del mare e quindi siccome i mattoni sono con malte antiche fatte di calcio eccetera, questo schiaffa le dilava, vuota le connessure fra le pietre, fra i matori dei conglomerati cementizi che le tengono insieme ed ecco là i cedimenti e il franare di queste cose. Sommato a questo problema molto grave c'è anche quello del pericolo, perché questa quantità di canali di Venezia non sono attrezzati per avere, mentre una navigazione lenta consente il traffico delle migliaia di barche che una volta andavano a remi fino alla seconda guerra mondiale, perché i primi motori fuori bordo ne hanno lasciati gli americani, gli inglesi, dei loro mezzi da sbarco, delle cose eccetera, ma erano motorini piccoli. Quando io ero giovane al liceo, chi aveva un motore potente? Aveva il famoso Mercury 7,5, 7,5 cavalli, gli altri avevano i 6 cavalli. Adesso non c'è nessuno, neanche i ragazzini che ha meno di 40 cavalli e i taxi hanno 280 o 320 cavalli, tutti questi Volvo, Penta, eccetera, sono quelli che vanno per la maggiore. Allora, cosa serve avere 320 cavalli sotto la tua imbarcazione di consumo di gasolio, di inquinamento? Perché poi nessuno ha i filtri, sono tutte imbarcazioni, mentre la normativa europea che vale in tutte le cose ti impone di non circolare con le macchine che fanno quell'inquinamento e tu sei agli aero 1, 2, 3, 4, sei ormai all'euro 7. Questi sono motori completamente senza filtri, aperti, con centinaia di cavalli, inutili, perché se tu non puoi andare a più di 7 km all'ora perché sono 4 nodi la velocità consentita? Perché la regola era stata fatta negli anni 70 e 80 quando si è creato questo problema e l'UNESCO per primo che si era cominciato a interessare in maniera potente di Venezia, dall'alluvione del 66 per la conservazione, eccetera, all'inizio degli anni 80 aveva fatto una mostra in Palazzo Lucale, allarmante, ma parliamo di 50 anni fa, allarmante sulle condizioni, dove erano fotografati tutti i buchi che si erano creati con le basse maree, vedevi le fondazioni fuori con queste voragini e dove vedevi che dove c'è un muro e il traffico del passaggio di questi motoscafi, l'onda ti schizza e tu hai la linea delle alghe bagnate, il verde, quel verde che si fa sulla linea del bagno asciuga che arrivava a un metro, un metro e mezzo sotto fin quasi alle finestre del primo piano questi schizzi di onde verdi che sono proprio la dimostrazione che arriva l'acqua e lì è mare, non è più aria fuori dall'acqua. Ecco, non volevo monopolizzare ma questi sono i temi. E quello che dice il professor Dal Paus è tutto questo conosciuto, conosciuto dagli studiosi, studiato dall'università, seguito dal mondo della cultura internazionale ma sconosciuto alla politica. Purtroppo ignorato più che sconosciuto, perché ignorato? C'è stato un progettista di barche americane che era questo ingegnere Chuck Robinson che lavorava sulle barche della Coppa America e che era venuto ai tempi di Azzurra a Venezia, che era la cosa col VAR, poi con la Coppa America di Gardini, col Moro di Venezia, era venuto eccetera e si era reso conto e ha detto ma io che ho le vasche navali facciamo gli studi delle carene eccetera. Ha progettato un vaporetto che si chiamava il Vangiaronde e un taxi che ha speso oltre 2 miliardi di vecchie lire a metà degli anni 90 e li ha donati al comune di Venezia, perché fossero i prototipi di delle imbarcazioni che con queste carene a Trimarano, che arrotolavano dentro di sé l'onda che si crea quando una prua apre l'acqua, si crea automaticamente. Se questa onda anziché sbalzarsi per fuori, si arrotola su se stessa perché trova una specie di tubo, si incalava dal tubo, diventava anche potenza sfruttata di velocità della barca. Ecco, il comune di Venezia li ha presi, li ha messi in terra, non li ha mai utilizzati e li ha lasciati deperire, adesso non so neanche più dove siano. Li vedevi abbandonati sui cantieri a CTV messi là, donati da un americano affezionato a Venezia a sua cura e spese. Il vaporetto era costato 2 miliardi di lire di quella volta, fra sperimentazione. Sulla questione di mettere una falda di acqua sotto, pompare l'acqua sotto Venezia potrebbe creare dei grossi problemi di stabilità, perché una situazione di questo genere è già stata provata in Giappone. Hanno fatto una pista di atterraggio in mezzo a una laguna, tipo quella di Venezia, e lì atterrano un sacco di aerei anche di alto, diciamo, di grande peso, di grande portata. Il problema è che si sono accorti che mettendo l'acqua sotto, se non la metti a una certa profondità, l'acqua continua a muoversi e quindi diciamo che per sostenere questa pista di atterraggio continuano a pompare acqua. Ovviamente una pista di atterraggio ha una sua dinamica, è molto più semplice che sostenere invece dei palazzi come Venezia, che hanno una loro criticità nella tenuta. Professore. Io diciamo che questo intervento è un intervento che è stato proposto, esaminato anche dal punto di vista teorico con delle simulazioni matematiche, però quello che io ho sempre sostenuto, ma naturalmente in vano, perché mi è capitato di fare questa osservazione in Consiglio Comunale di Venezia, era il 2005, e improvvisamente questi consiglieri che si azzuffavano di solito fra di loro, tutti d'accordo nel dare addosso a chi proponeva di mettere dei soldi per fare uno studio anche sperimentale su questo problema, perché è inutile che noi prendiamo posizione sulla base anche di simulazioni matematiche che sono sofisticate, pregevoli, e così via, perché tutto quello è un castello che cade se l'esperienza non mette in evidenza che quanto tu prevedi con le tue simulazioni è poi tradotto o traducibile in realtà. Allora io lo sostenevo, di soldi il Consorzio di Venezia ne butta tanti, poi alla fine 4 giugno del 2014 si sono accorti che magari venivano anche buttati malamente, ma io dicevo buttate dei soldi e sostenete uno studio rigoroso dal punto di vista teorico e dal punto di vista sperimentale, fate un esperimento in campo qui in Laguna di Venezia per vedere questo fatto. Allora sulla questione del sollevamento del suolo non è che si possa liquidare secondo me la questione così dicendo ma non si può fare, per dire che non si può fare bisogna dimostrare che non si può fare. E allora detto questo ricordo solo che nel 1970 l'Arodio sollevò 10.000 metri quadri di terreno nell'isola di Poveglia. Esatto. La sollevò di 15 centimetri utilizzando però una miscela brevettata che ebbe risultati positivi in quella situazione ma su una superficie relativamente modesta se si vuole trasferire l'esperimento dall'effetto locale dove si sono sollevati alcuni edifici dell'isola di Poveglia al tessuto urbano perché nel caso del tessuto urbano non è che possiamo permetterci di sbagliare introducendo dei sollevamenti differenziali perché il Palazzo Ducale ci cadrebbe ai piedi e quindi di qui l'idea che le iniezioni eventualmente nel tessuto veneziano dovevano essere fatte a grande profondità, 600-700 metri. Quindi questa è l'ipotesi ma è un'ipotesi che secondo me è meritevole di essere indagata con un esperimento significativo perché la scienza non esce da queste situazioni. non c'è nessuno che è l'ipsed exit, oggi l'ipsed exit vale fino a un certo punto perché devi dire delle cose che tu sostieni e che poi qualsiasi altro può verificare se sono veri o se sono falsi. Quindi l'unica possibilità per uscire da questa situazione di impasse è quella di finanziare un esperimento. Finanziatelo e poi alla fine emettete la vostra sentenza. è importante o non è importante? Secondo me è importantissimo perché sulle polemiche che ci sono state sul Mose, adesso è beatificato, fra poco faranno santi quelli che l'hanno progettato. insomma dopo le dico cosa pensano i veneziani del Mose. E però si sfugge sempre alle questioni fondamentali che furono poste. Chi faceva delle obiezioni su questa soluzione non le faceva con riferimento alla soluzione ingegneristica che peraltro è una soluzione molto delicata perché secondo me un ingegnere non si avventura mai in una soluzione della quale non sa con certezza che avrà risultati positivi. Il Mose ha dei problemi seri perché ogni giorno adesso lo alziamo, stiamo qui a discutere di una cosa oggi che inutilmente in occasione del 2006 un incontro a Palazzo Chigi dove venne presa la soluzione di finanziare questa opera senza dare ascolto alle critiche. In quella situazione il progettista continuava a dire ma sì le chiusure 4, 5, 6 volte all'anno al massimo. E gli si diceva ma santo cielo non vedi che tu con questa posizione per renderla credibile ti sei fatto fare uno studio apposito da un ambiente addomesticato perché ti desse questo supporto pseudoscientifico che portava a dire che l'innalzamento del livello medio del mare in proiezione secolare sarebbe stata di 22 centimetri quando l'IPCC diceva no almeno 50 e quando invece gli esperimenti dicevano che probabilmente era vero quello che diceva l'IPCC perché le osservazioni dell'andamento delle maree a Venezia diceva che negli ultimi 30 anni il livello medio del mare era salito di circa 5, 6 mm all'anno. Allora se tu proietti 5, 6 mm all'anno su base centenario ottieni 50, 60 centimetri, altro che i 22 centimetri. E oggi quando sollevano ogni giorno le paratoie, mica dicono guarda quei deficienti che dicevano che non era vero che avremmo chiuso 5, 6 volte all'anno forse avevano ragione perché questa è la realtà, si vive ancora nella mistificazione di un'opera. Politica e non scientifica. Che che è? Così va bene insomma, se vi va bene così vedremo fra poco poi quando non sarete più in grado di pagare i costi dei sollevamenti che potrebbero diventare se valgono le previsioni dell'IPCC non 5, 6, 7 volte come diceva il progettista ma 300 volte negli anni peggiori. 300 volte all'anno vuol dire tutti i giorni. Questa è la realtà. Allora io dico che il discorso del sollevamento del suolo è un discorso delicato, però noi non lo possiamo liquidare a mio avviso senza condurre un esperimento adeguato. Da una parte simulazioni matematiche, dall'altra la verifica che quelle simulazioni matematiche sono rispondenti alla realtà. Questo deve fare uno che si occupa dal punto di vista scientifico di questi fatti, non prendendo posizione così. Certo, ma poi c'è anche un altro fattore negativo sulle paratoie, perché le paratoie, cioè l'impianto del MOSE è sceso già di 11 centimetri, quindi a quei 30-20 centimetri che dicevano una volta, avevo calcolato l'assestamento delle paratoie e poi l'inalzamento del mare, per cui il mare se dovesse alzarsi di 50 centimetri ne aggiungiamo qualche centimetro in più perché il MOSE sta... Guardi professore che l'ultimo rapporto dell'IPCC, uscito qualche anno fa, dice che saranno forse un metro i valori ai quali far riferimento su base secolare. Quindi altro che 50 centimetri, che già sono drammatici per Venezia, un metro vuol dire chiudere la laguna. Io non ho la competenza scientifica del professor Dal Paus, però volevo aggiungere qualcosa sul modus operandi, nel senso che è certo che Venezia sprofonda perché è sprofondata e perché tutti gli anni si registra uno sprofondamento. Allora i vecchi veneziani andavano a mettere, perché la laguna è profondamente toccata dall'uomo anche in antico, andavano a mettere le mani per gradi e quindi su ogni cosa c'era non solo il pensiero di che cosa fare, ma anche la sperimentazione progressiva di come dovevi... Cioè dovevano modificare la linea o la forma di un canale, piantavano un palo e vedevano la corrente intorno a quel palo come spostava i sedimenti e le cose e se si procedeva così. Altrettanto deve essere fatto sull'idea di riportare a delle quote di sicurezza rispetto al mare, perché essere tanto sotto il livello marino con i problemi che ci sono del riscaldamento climatico e dell'aumento delle previsioni anche dell'innalzamento marino è una cosa pericolosissima e quello che si sta verificando è proprio questo. Trent'anni fa si diceva che il Mose sarebbe stato alzato occasionalmente qualche volta per difendersi dalle alte maree eccezionali, qua siamo a ottobre di quest'anno che è già stato alzato una ventina di volte e ci sono maree eccezionali, la città va sotto acqua con i 90 centimetri di marea e a 110 già buona parte dei negozi cominciano a avere delle case, cominciano a avere l'acqua in casa, non solo le onde fuori e se in aggiunta tu c'hai l'acqua in entrata e c'hai i motoscaffi che ti fanno le onde, c'hai le onde dentro l'entrata, cioè tu sei, hai proprio un'invasione della marea e dell'acqua spaventosa, quindi a questa cosa bisogna pensarci ed è per quello che è stato criminale non pensarci per tempo e quando i tecnici e gli scienziati come ricordava il professor Dal Paus hanno cominciato a pensare ma vediamo come si può e hanno fatto sperimentare il sollevamento su un'isola disabitata, poveglia qualche edificio storico, a buona parte sono vigne lasciate in mezzo alla laguna e poi hanno fatto una prova sperimentale su quell'edificio che ricordavo la casa dei sette camini perché aveva sette camini uguali, uno di fila all'altro ed era una di quelle proprietà pubbliche che invece di avere 3-4 preanni, un forte peso, un'altezza, erano casette popolari molto basse e quindi consentivano di vedere come si comportava e un millimetro per volta al settimana o al mese l'hanno tirata su di una quarantina di centimetri, 50 quasi per fare lo sperimento, ovviamente pensare a questo è una cosa importantissima perché e dico l'ultima cosa sul Mose che secondo me è stata pensata e quelle famose riunioni di Roma che si ricordavano degli anni 90 in cui poi si è deciso di finanziare il Mose, era perché nessuno sapeva dove si sarebbe andati a finire col Mose, quello che era certo era che se tu cominciavi a spendere i denari finanziati della legge speciale per Venezia, che erano miliardi, se non li cominciavi a spendere il governo avrebbe cominciato a toglierli e quel finanziamento a spenderli da altre parti e tutta la politica veneziana e l'imprenditoria che si agganciava alla politica avrebbe perso miliardi di lavoro, quindi sono partiti a sprombattuto su questa sperimentazione con l'idea del Mose senza sapere dove si finiva, proprio per cominciare a spendere i soldi perché se no questo denaro pubblico, anziché finire e ritornare in queste tasche private che si sono occupate della realizzazione del Mose con tutti i problemi che poi la magistratura ha evidenziato, li avrebbero perduti, allora è questo il panorama nel quale noi ci stiamo muovendo e ci siamo mossi in passato. Bene, allora passiamo a un prego. Volevo dire un'ultima cosa su questa questione del Mose che poi non era l'argomento nostro, però quando fecero questa scelta gli olandesi stavano costruendo o risolvendo un problema analogo sul canale di Rotterdam e nella loro indagine fecero fare progetti diversi a gruppi industriali diversi e mi pare che erano 5 o 6 e tra le soluzioni c'era quella poi adottata a Venezia che fu eliminata perché giudicata troppo costosa dal punto di vista dell'esercizio e della manutenzione. Allora a Rotterdam hanno fatto qualcosa di diverso che è altrettanto efficace e che funziona perché l'hanno inaugurato nel 1997 credo lo sbarramento per cui ha dato prova di sé per 23 anni. Ma doveva far riflettere il fatto che questi olandesi che al soldino ci tengono avevano scartato quella soluzione? Non ti è venuto in mente che forse c'era un motivo valido per arrivare a quella soluzione? Ma detto questo sul moto ondoso io volevo evidenziare un fatto che è fondamentale perché noi possiamo aspettare che vengano fatte carene nuove, carene performanti, ma l'aspetto fondamentale messo in evidenza da quegli esperimenti che ho ricordato è la velocità, il parametro fondamentale è la velocità. Allora tu vuoi contenere il moto ondoso devi agire sul parametro fondamentale che è la velocità perché ottieni un effetto immediato. Quanto poi al fatto che sui canali lagunari c'è un limite, ci sono dei limiti? è vero, ci sono dei limiti. Nessuno li rispetta? Appunto, basterebbero 10 pattuglie di vigili che ci sono e ne ha assunti 120 questo sindaco, tutte le assunzioni che ha fatto in comune sono vigili per avere la sua guardia a disposizione. Basterebbero nei punti strategici dove c'è il maggior voto ondoso che il problema sarebbe risolto, perché non è vero che non c'è la normativa, c'è la normativa a cui diventa solo che nessuno controlla, nessuno mette le sanzioni, tutti quanti corrono come vogliono eccetera e quelli sono dei delinquenti perché se in autostrada vai a 250 km all'ora che è come i tassisti che vanno adesso in profate le debite proporzioni nei canali di Venezia, c'è qualcuno che ti ferma? Ci sono i sistemi in tutto e ci sono gli autovelli, ti arrivano la cosa e ti sequestrano la macchina. Però a Venezia il sistema da remoto non può l'utilizzare. Da Piazzale Roma a Caffarsetti, è il sindaco? Cosa vuoi che metta i limiti di velocità? Però posso dire anche i limiti di velocità che sono stati adottati sono limiti che sono eccessivi perché una grande nave che va su quel maledetto canale dei petroli a 20 km all'ora è una situazione estremamente pericolosa perché se per un motivo o per un altro c'è uno sbandamento non si salva. Allora bisogna mettere mano ovviamente ai controlli ma anche soprattutto a questi limiti che furono fissati a suo tempo come? Non su base scientifica secondo me ma accontentando Tizio piuttosto che Caio e così via. Questo è il problema e poi con riferimento al moto ondoso e ai disastri che produce sul tessuto urbano c'è da dire che se le murature non fossero sconnesse le onde prodotte sarebbero facilmente sopportabili da queste strutture. Il fatto è che le strutture si sconnettono quindi si aprono dei varchi e l'onda che alza e abbassa rapidamente i livelli nel canale prospicente a queste murature agisce con un'azione di pompaggio sulla parte retrostante e quindi ogni volta che c'è un'onda che incide nel riflusso del materiale dall'interno viene verso l'esterno e si creano delle cavità nella parte posteriore alle murature di cui poi a un certo momento il crollo di quello che sta dietro. Allora anche qui siamo moderni, oggi i canali li scaviamo perché dobbiamo scavarli in ri periodicamente ma come? In acqua, in presenza d'acqua. Il nonno invece chiudeva il canale in testa e alla fine svuotava il canale, tirava via i sedimenti che doveva eliminare ma permetteva contemporaneamente di porre rimedio a quei danni alle murature, a quelle fessurazioni, a quelle crepe che si erano manifestate. Oggi non è più possibile. Non fanno manutenzione. Allora cosa ti aspetti? A lungo andare ti aspetti che qualcosa deve crollare. Insomma, il progresso è un regresso, diceva un vecchio minatore del mio paese. A me faceva ridere quando lo sentii dire queste cose ma forse aveva ragione. Allora facciamo vedere un contributo così i nostri telespettatori possano seguire dal vivo un po' quella che è l'effetto dell'onda. Contributo numero uno. Il moto ondoso è un problema che a Venezia è conosciuto ormai da più di 50 anni. La prima edizione della Vogalonga in Laguna era nata nel 1975 proprio per denunciare al grande pubblico la gravità di questo problema. Una rivincita del remo sul motore, scriveva all'epoca il collega Delpho Uttimperger sulle pagine del Gazzettino. Una riscoperta del suggestivo ambiente lagunare. Un raduno popolare non per contestare qualcosa o qualcuno ma unicamente per solidarizzare con Venezia. Tante mani protese verso la città per difenderla da uno dei suoi tarli più insidiosi. Il moto ondoso. Il successo della manifestazione andò via via aumentando negli anni con un crescendo di adesioni fino a raggiungere le 2100 imbarcazioni con circa 7500 vogatori provenienti da tutto il mondo. In pochi anni a Venezia sorsero oltre 50 società remiere che gradualmente misero in acqua splendide imbarcazioni di rappresentanza a 10, 12, a 18 remi. Ma la mobilità a motore non si è fermata in questi anni e nemmeno limitata. Nel 1993 la situazione era talmente grave che fu istituita una commissione da parte del Comune. Ma da allora ad oggi le barche motore che navigano i canali veneziani sono triplicate. L'altezza delle onde che queste imbarcazioni producono sono più che raddoppiate. In Laguna, anche rispettando i limiti di velocità imposti per legge, ci sono onde che superano ampiamente il metro di altezza. L'autorità portuale ha messo in campo quest'anno un progetto per valutare l'impatto del movimento delle navi nel canale dei petroli, il Malamocco Marghera. Con questo studio potrebbero essere determinate le velocità che le singole imbarcazioni devono tenere all'interno del canale. Questo collegato a un monitoraggio da remoto permetterebbe di controllare singolarmente che ogni imbarcazione circolante in Laguna viaggi a una velocità tale da essere a impatto zero. Non c'è ormai più tempo ed è il momento in cui tutti gli attori, politici o meno che siano, dovrebbero dimostrare quella attenzione che Venezia merita per dare finalmente una nuova legge speciale, introducendo nuove regole per salvaguardare veramente la città. Con la bassa marea è stato possibile osservare la situazione delle fondamenta, dei palazzi che presentano delle vere e proprie voragini, dei buchi impressionanti nei muri destinati a creare un cedimento strutturale dell'immobile stesso se non si interviene rapidamente. All'erosione, dovuta al continuo sbattere dell'onda sulle rive, si aggiunge anche l'inquinamento idrodinamico, quello subacqueo che sposta i sedimenti, erode le fondamenta che vengono così a svuotarsi un po' alla volta per cedere lentamente. Che il moto ondoso faccia malissimo a Venezia viene denunciato da sempre, eppure come per lo spopolamento della città non si è mai assistito ad una seria politica di contrasto del fenomeno. Anzi, il traffico dei mezzi a motore nei calani valenziani ha raggiunto livelli ormai insostenibili. Intervenire con divieti e limitazioni chiaramente andrà a scontentare più di qualche categoria, ma rispetto agli interessi economici di chi la sfrutta, il bene di Venezia è di gran lunga superiore. Eccezionale questo servizio perché ha colto proprio nel punto quello che è il problema. L'aggravarsi di quello che noi abbiamo detto di criticità della situazione fisica dei palazzi è dato dallo sfruttamento turistico di questo turismo di massa, che ha decuplicato il traffico a motore e senza nessun rispetto, perché è vero quello che diceva il professor Cose, nel senso che il turista non se ne accorge neanche di far del male alla città quando vuole correre con quei tempi dall'aeroporto o dalla stazione al centro all'albergo dove alloggia. Andrebbe fatta una grandissima operazione educativa, culturale, di comunicazione anche internazionale e turistica. Se vuoi bene a Venezia vai piano, non prendere i motoscaffi, prendi la gondola. Io mi ricordo che feci nei primi anni 90 provocatoriamente con una vecchia battella di quelle dell'Associazione Arzenà che abbiamo, una barca settecentesca di tipo, ma molto semplice, è la barca da lavoro dell'operaio, feci un passaggio davanti alla stazione a chiedere se qualcuno voleva venire e andare in battella, gratuitamente, ma avremmo potuto chiedere, anziché i 30, 40, 50 Euro che chiede un taxi per farti fare 10 minuti, 5 minuti di tragitto, avresti potuto chiederle 5 Euro, 10 Euro, eccetera. E il turista viene volentieri se glielo spieghi, anche perché a Remio è molto più bella vederla la città, ha un sapore diverso, senti uno stile diverso, è come entrare in una casa moderna, in una casa illuminata a candele col suo sapore antico, sarebbe una cosa bellissima per la città. Ma per fare questo ci vuole chi ti dia le autorizzazioni a muoverti in quel modo e che ti tolga le autorizzazioni e le licenze se tu distruggi la città con quei mezzi a motore incompatibili. Gli squeri veneziani avrebbero lavorato, avrebbero mantenuto un patrimonio di barche, quindi anche con risvolti assai importanti sull'artigianato, sull'economia locale, sul dare un filone di vita economica a questa attività della cantieristica minore che una volta era costruita a Venezia, mentre queste barche non sono neanche costruite in città, non sono più di squeri. Ce ne sono quei tre squeri che lavorano sulle gondole perché è obbligatorio avere la gondola di legno e te la fanno in quel modo soltanto i cantieri veneziani, ma se no sono costruzioni di dite che lavorano in plastica, in vetroresina, in giro per altri cantieri che non sono veneziani e tutto porta via denaro, energia e soldi sfruttando Venezia e il nome di Venezia senza lasciare niente. Cioè i soldi che arrivano a Venezia stanno distruggendo Venezia. Allora facciamo vedere il secondo contributo Venezia lotta al moto ondoso. Lungo la laguna e i canali di Venezia transitano circa 70-80 mila imbarcazioni ogni giorno e per la maggior parte si tratta di imbarcazioni a motore. Il traffico acqua è un fattore che incrementa il moto ondoso, cioè il movimento dell'acqua che infrangendosi sulle rive e sui muri di sponda li danneggia mettendone anche a rischio l'incolumità di chi si muove. sulle barche a remi. Il moto ondoso è provocato soprattutto dalla velocità, spesso oltre i limiti previsti dalla legge per i natanti. A Venezia i limiti di velocità sono compresi tra i 5 e i 20 chilometri orari in base alle dimensioni dei canali, ma si tratta di limiti che molto spesso non vengono rispettati. Non bastano i controlli della Polizia Municipale incrementati durante il periodo estivo. Quello che manca è la possibilità di rilevare le infrazioni da remoto, come avviene normalmente sulla rete stradale con gli autovelox. Il sistema a Venezia ci sarebbe ed è costituito dall'insieme di due distinti strumenti. Il primo si chiama MOMA e sfrutta la tanto decantata intelligenza artificiale. È in grado di monitorare il traffico acqueo con l'obiettivo di studiare il comportamento di chi utilizza le imbarcazioni. Capire quante sono e di quali dimensioni, come si muovono in laguna, quali tragitti percorrono. Il secondo strumento invece è il SISA, il sistema sanzionatorio, quello in grado di individuare e punire i trasgressori. Utilizza circa 60 telecamere già installate lungo i canali di Venezia che però non possono essere utilizzate perché la legislazione non lo permette. Il codice della navigazione infatti non permette che ci siano strumenti che rilevino automaticamente la velocità dei natanti. Si sta attendendo in questo senso che Roma dia il via libera per l'utilizzo di questi sistemi. Le associazioni che si battono per la tutela della città rimangono con l'amaro in bocca perché i fondi europei del PNRR si sarebbero potuti utilizzare proprio per rendere più sostenibile la navigazione a Venezia e tutelare così la sua fragilità favorendo una mobilità meno impattante. Imbarcazioni che viaggino più lente e pensate per generare un moto ondoso minimo. La magistratura è stata contro Venezia perché, lo dico da avvocato, il Tar del Veneto ha annullato tutte le sanzioni messe, prese con le apparecchiature elettroniche di controllo. Tra l'altro tutte queste imbarcazioni, i taxi e queste di strasposto, hanno per gestione loro già un sistema GPS perché così si chiamano, si fanno gli interventi, si comunicano e rendono il servizio più efficiente possibile nel loro interesse per andare di corsa da una parte all'altra a prendere dove ricevono le chiamate. Sarebbe bastato poter utilizzare i sistemi già inseriti sulle imbarcazioni a motore e sulle imbarcazioni da trasporto e sui taxi da trasporto persone, ma il Tar ha annullato, è ultima, recentissima, è una sentenza di Cassazione della settimana scorsa, la quale dice che il Comune di Venezia non può consentire, cioè non consentire il passaggio nei canali e nei calendrandi, anche alle licenze di uso turistico dei comuni non veneziani, cioè si era tentato di dire vabbè ci sono tutte queste licenze, tutte queste cose adatte e consegnate alle imbarcazioni veneziane e almeno siano solo quelle, perché se no continuano a montare, più turisti arrivano, più barche fai, più il traffico è motore, diventa una situazione ingestibile e caotica. La Corte di Cassazione ha detto no, poi il regime normativo vigente eccetera eccetera, tu non puoi non consentire l'ingresso, quindi arriva chiunque del resto del mondo con l'imbarcazione e entra dentro a Venezia e la fa senza controllo, anche un cinese, un russo, un arabo, un'americana o una compagnia di gestione di barche che ti mette altri 100 taxi perché vuole arrivare con la speculazione in città. Qui bisogna cambiare la normativa, nel senso che Venezia è una città speciale e ha bisogno di una normativa speciale che esca da questi criteri, perché se no la magistratura quando tu intervieni per cercare di regolamentare e ti toglie le sanzioni a chi trasgredisce, capite bene che è il Bronx. Certo, professore Dal Paus, una conclusione? Ma cosa vuole? La conclusione è molto difficile perché sembra che i problemi veneziani affrontati anche in modo molto approfondito alcuni, diventino alla fin fine irrisolvibili perché il decisore non prende le giuste decisioni. Purtroppo è così e c'è anche un altro aspetto, adesso si discute della nomina di questo personaggio che dovrebbe essere inserito in questo nuovo organismo che sostituisce il magistrato alle acque. Ma chi pescate? Pescate uno che conosce il problema, Venezia in senso generale, non che sia in grado di affrontare e risolvere tutti i problemi, ma che li conosce e che quindi sa eventualmente a chi rivolgersi per avere un conforto scientificamente valido. Tutto questo non capita, non è che sia qualcosa di diverso da quello che succede nelle altre parti del Paese, però sarebbe finalmente ora di cambiare indirizzo. Bisognerebbe che ai posti importanti vadano persone competenti, non persone che sono amiche di Tizio piuttosto che di Caio o che appartengono a una parte politica piuttosto che a un'altra. Purtroppo questo è il male di... Professore c'è anche di peggio, cioè vengono scelte ad hoc perché siano persone che coprono e mettono il problema, la polvere sotto il tappeto, in maniera da poter continuare, cioè non è solo l'amicizia, ma sono spesso scelte ad hoc perché siano persone che coprono l'incompetenza. Io credo che per risolvere questi problemi quello del moto ondoso sarebbe un problema facilmente affrontabile che doveva essere affrontato fin da subito 30 anni fa quando furono fornite le basi scientifiche per dire è giusto che tu faccia così, è giusto che tu cambi i limiti di velocità, è giusto che tu limiti le velocità. Si è fatto qualcosa? No. Anzi, è peggiorato. Il porto di Venezia che finanzia uno studio sul navigabilità del canale dei petroli, quando su quel tema si sono prodotte studi, contro studi e così via, ma che cavolo vai a dare un milione e settecentomila euro ai soliti noti? Perché sono quelli… Ma perché è un nuovo studio ad Usum Delfini, non vanno bene gli studi scientifici di Venezia. No, ma non occorreva neanche studiare. È successo che nel canale di Suez una nave si è messa per traverso e l'ha bloccato e per deliberare il canale di Suez, che è un canale largo rispetto al canale dei petrogli, ce l'hanno messo e per fortuna sono riusciti a farlo. Quindi la pratica, anche la volgare pratica ha detto no al canale dei petrogli, ma torno a ripetere che nel 1972 fece un articolo contro Bisaglia, che allora era quello, il ministro dei lavori pubblici mi pare, e continuava a scavare il canale dei petrogli. Dico perché non mettiamo… io ero presidente del Club Sommo Satori di Padova e fondatore del Club Sommo Satori, ho detto perché non mettiamo una pipeline in Adriatico, cioè la pipeline è un tubo che parte in mezzo al mare dove attraccano le navi e non fanno disastri, porti dentro eventualmente il petrolio, sicuramente non è la soluzione migliore, ma certamente non del canale di petrogli. Se guardiamo la grafica delle alte maree dal 1960 in poi, quando è cominciato a scavare il 64, il canale di petrogli, vediamo che le maree a Venezia sono cresciute in altezza e in numero, perché il canale di petrogli praticamente è alla portata maggiore che hanno i porti dalla laguna di Venezia con le alte maree e poi naturalmente… Il canale dei petrogli ha avuto un ruolo disastroso dal punto di vista morfologico, ha distrutto la laguna centrale. Adesso un episodio personale, io non sono stato spesso consultato dagli organismi diciamo politici, ma mi è capitato negli ultimi anni di andare a Roma per sentire qualcosa circa lo spostamento delle navi da crociera dal bacino di San Marco sul canale dei petrogli attraverso l'ingresso di Malamocco. Allora, in quella situazione il ministro protempore di allora, dice adesso estromettiamo le navi e provvisoriamente le facciamo approdare a Marghera, provvisoriamente. Io mi sono permesso di dire a questo ministro che era una signora, ma signora guardi che forse quell'aggettivo provvisorio è pericolosissimo, perché non c'è niente di più definitivo del provvisorio in questo nostro paese. E infatti era il 2020, siamo là con le navi provvisorie che stazionano Marghera, progettano di farle arrivare anche alla marittima perché vogliono riescavare il canale Vittorio Emanuele. È possibile che succeda questo? È possibile? E quando la soluzione sarebbe quella di portarle fuori, lasciarle fuori, anche perché il Mose, fra un po', impedirà di entrare. Sarà un muro definitivo. La frequenza di manovra sarà tale da rendere praticamente impossibile a chi ha la responsabilità di queste navi di portarle a Venezia perché se non sa se potrà entrare o non potrà entrare. Già il sindaco attuale difende a spada tratta lo scavo del canale Vittorio Emanuele e già stanno facendo investimenti sulle banchine del porto di Marghera per rendere definitivo quel provvisorio, cioè per continuare a farle. Quando cominci a spendere soldi pubblici in quella maniera scelerata e sconsiderata perché sono spesi in maniera sbagliata poi devi correre dietro a quella spesa per non rientrare. Per il principio che più spendo più guadagno. Io volevo lanciare un appello che è questo. Io da piccolo ho fatto in tempo a girare a remi con i sandoletti e con le barche, era una delle cose più belle che si poteva fare a Venezia perché non hai campi da tennis, non hai piscine, non hai campi da calcio se non quello, il penso, eccetera. Anche per lo sport dei ragazzi, dei giovani, eccetera, è una delle cose più belle che si possono fare e che ti fa apprezzare vivere la città in maniera straordinaria. Le mie figlie che hanno adesso 8, 9, 10 anni, eccetera, quelle talie che cominciano a essere indipendenti, non possono più godere di questa cosa. Perché è pericoloso. È pericolosissimo, nel senso che ci sono tali e tante di quelle onde che hai perso proprio la possibilità e allora l'appello è alla nuova generazione di veneziani che sta crescendo, pochi perché Venezia si spopola sempre di più, ma quei pochi bisogna che possano cominciare a vivere nella città con questo stesso spirito, apprezzando lo stesso modo di vita, lo stesso stile di vita millenario e che è straordinario. Bisogna che lo facciamo anche per loro, oltre che per salvare la città. Perché accanto alla salvaguardia dei palazzi che non devono crollare, bisogna consentire ai veneziani di vivere nello stesso modo con quel sapore, con quello stile di vita che è quello che per mille anni ha fatto sì che questa città si sia costruita e conservata, essendo scuola di civiltà per il resto del mondo. Grazie, grazie del vostro intervento, io spero che i veneziani ti abbiano seguito, che sia passione nella loro città, perché Venezia non esiste se non ci sono i veneziani, bisogna dirlo. I veneziani fanno vivere Venezia, se no Venezia è un cadavere alla deriva come stanno utilizzando anche in questo momento il sindaco di Venezia sta utilizzando Venezia, però domo sua, e non è giusto. Venezia deve essere aiutata a tornare quella vivibilità che aveva una volta. Allora siamo sicuri che Venezia potremo consegnarla ai nostri fisi tranquillamente. Volevo dare una curiosità ai nostri telespettatori, non so se hanno scoperto che andando a Venezia le case sono fatte a piramide. Se guardate i palazzi lungo il Canal Grande vedete che i vari livelli dei palazzi sono sempre più stretti verso l'alto. I muratori lo chiamano il fuori piombo. Esatto, e questo da consolida, per cui queste fondamenti di cui abbiamo parlato adesso sono essenziali perché la spinta ancora di più è verso il basso per contenere naturalmente le oscillazioni e tutta l'instabilità che naturalmente venezia scomporta. In tutti questi disastri di cui abbiamo parlato e che abbiamo descritto c'è solo una grande fortuna ed è che quelli che l'hanno costruita a Venezia erano anche costruttori navali e quindi sono stati capaci, malgrado la fragilità del sedime su cui costruivano e malgrado la fragilità dell'ambiente e le sollecitazioni a cui venivano questi edifici sottoposti, sono stati in grado di legare mescolando pietra, legno e tiranti in ferro per cui hanno costruito delle strutture assolutamente elastiche e che hanno tenuto anche coi peggiori terremoti, quelli del fiore, le case ballavano molto di più di quelle della terraferma ma stavano più perché proprio questi costruttori navali e questa grande maestria nella edificazione ha consentito di fare edifici che se non li devasti con questo problema del moto ondoso e della subsidenza dovrebbero durare non il migliaio di anni che sono durati ma il doppio. Certo, allora proviamo a chiudere per la terza volta questo brano della trasmissione, grazie dal vostro intervento, spero che i veneziani e tutti i veneti abbiano possibilità di vederlo, andate a vedere Venezia, consiglio di andare a Venezia quando naturalmente durante la settimana o piuttosto nei giorni meno affollati perché allora si può godere meglio Venezia, grazie. Certo, certo, grazie all'Avvocato Giorgio Suppie per essere stato con noi e grazie al Professor Luigi Dal Paus, grazie per il vostro contributo, sicuramente non riuscivamo a chiudere la trasmissione perché i problemi di Venezia sono tanti e le cose da dire sono veramente tante ma chiaramente come mai avviene da tanto tempo torneremo ad occuparci di Venezia anche nelle prossime puntate. Grazie ancora per essere stati con noi, per i nostri telespettatori, un attimo di pubblicità e poi ritorniamo con la parte della storia e questa sera ricorderemo Papa Giovanni XXIII, a tra poco.